L'ha colpita più volte con un bastone, poi si è accanito su di lei a mani nude a calci e pugni, vittima di una violentissima aggressione da parte del padre, una ragazza ancora minorenne. Questo quanto accertato dai carabinieri di Sansepolcro intervenuti nella notte tra domenica e lunedì per sedare una lite in famiglia che si sarebbe accesa per futili motivi. Sul posto, dopo essere stati contattati dalla ragazzina, sono immediatamente arrivate due pattuglie la giovane era ancora sotto shock a causa delle percosse ricevute. È stata così soccorsa dal personale dell'emergenza urgenza intervenuto su richiesta dei carabinieri. Successivamente, a causa dei traumi riportati, è stata trasferita in ospedale per gli accertamenti del caso. I carabinieri hanno raccolto tutti gli elementi utili e ha arrestato l'uomo che si trova adesso in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria dovrà rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia.